Ciao, sono Lorenzo e bentornati su Mi Offro Io. Siamo arrivati al decimo e ultimo episodio di questa serie dedicata all'educazione finanziaria. In quest'ultimo video parliamo della ricchezza delle nazioni, alzando quindi lo sguardo dal nostro portafoglio per guardare al benessere collettivo della società in cui viviamo. Saprete sicuramente che l'indicatore più utilizzato, l'indicatore per eccellenza della ricchezza di un paese, è il prodotto interno lordo, che è per definizione il valore dei prodotti e dei servizi realizzati all'interno di uno stato in un determinato periodo di tempo, solitamente in un anno. Come diciamo dall'episodio 1, il valore di un bene o servizio è determinato dal punto di incontro tra la domanda e l'offerta ed è per questo motivo il valore di scambio. Dal PIL restano quindi esclusi tutti quei beni o quei servizi che una persona produce per se stessa oppure che vengono scambiati gratuitamente. Già qui, per anticipare le critiche, possiamo aprire una parentesi sul fatto che il PIL, nel valutare la ricchezza di una nazione, non tenga conto, ad esempio, della sua conoscenza o dell'educazione o della sua arte o della salute dei suoi cittadini. È una delle critiche che, negli ultimi tempi, hanno portato all'ideazione di altri indicatori che permettano di valutare il benessere all'interno di uno stato, e di cui parleremo tra poco. Fatemi però dire, da scienziato, che qualunque indicatore possiamo ideare non potrà mai misurare la bellezza di un paesaggio o la felicità oggettiva dei cittadini. Questo perché sono quantità mal definite, che non possiamo tradurre in numeri, e il compito dell'economia è invece quello di trattare delle quantità che possono essere manipolate matematicamente. Dicevamo, comunque, prodotto interno lordo, dove lordo si riferisce al fatto che, dal compito totale, non viene sottratta la perdita di valore dei macchinari o delle tecnologie utili alla produzione, come ad esempio i software, dovuta all'usura o all'obsolescenza nel corso del tempo, e che viene chiamata ammortamento, un termine che ha un significato leggermente diverso rispetto a quello che abbiamo visto nello scorso episodio relativo ai finanziamenti. Il calcolo del PIL può essere fatto in tre modi diversi, che a meno di approssimazioni danno tutti e tre lo stesso risultato. Il primo metodo è il metodo dei redditi, cioè si sommano, in un determinato periodo di tempo, che è appunto, generalmente un anno, tutti i redditi generati da famiglie e imprese all'interno dello Stato. Come abbiamo visto nell'episodio 6, i redditi possono avere natura diversa, possono essere redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, redditi da capitale o redditi fondiari o redditi appunto di impresa. Oltre a questi, poi, si sommano le entrate dello Stato, che sono appunto le imposte sulla produzione o sulla vendita, come ad esempio l'imposta sul valore aggiunto, l'IVA, e si sottraggono i contributi destinati dallo Stato alla produzione. Oltre a questi, recentemente, almeno in Italia, si aggiunge anche una stima dell'economia sommersa, e in questo modo anche il lavoro nero entra in qualche modo nel calcolo del PIL. Questo primo metodo guarda quindi al lato della remunerazione, cioè a quanto l'economia e gli scambi economici retribuiscano chi produce beni o servizi, quindi le persone con il loro lavoro o i capitali che vengono investiti. Gli altri due metodi di calcolo, il secondo e il terzo, guardano invece al lato della produzione. C'è quindi il metodo della spesa, per cui si sommano tutti i consumi delle famiglie, sia per comprare beni durevoli, che beni di consumo, che servizi, e gli investimenti, sia delle imprese, per comprare capannoni o macchinari, che delle famiglie, per comprare ad esempio delle case. Inoltre si aggiunge la spesa pubblica, cioè la spesa dello Stato e della pubblica amministrazione, e le esportazioni nette, cioè le esportazioni meno le importazioni. Infine, il terzo metodo è quello del valore aggiunto. Il valore aggiunto rappresenta proprio l'incremento di valore di un bene dopo che esso è stato lavorato. Pensate ad esempio ad una fabbrica di automobili. Il valore aggiunto è il valore di un'automobile meno il valore dell'acciaio e di tutti i materiali che sono stati utilizzati per realizzare quell'automobile. Per calcolare il PIL con questo metodo si prende quindi il totale del valore aggiunto, cioè la differenza tra produzione e consumo intermedi, e si aggiungono poi le imposte sulla produzione al netto dei contributi ai prodotti destinati dallo Stato. Possiamo capire che questo metodo è equivalente al primo perché ciò che l'impresa aggiunge del suo, il valore aggiunto appunto, è proprio pari alla somma dei redditi, cioè gli stipendi dei lavoratori e i profitti del capitale. Inoltre questo metodo è equivalente al secondo, cioè a quello della spesa, perché con il metodo della spesa stiamo sommando direttamente il valore finale dei beni o dei servizi, che quindi incorpora già al suo interno il valore aggiunto nelle varie fasi della produzione. Giusto per avere un'idea dei numeri in gioco, il PIL italiano nel 2022 è stato di circa 1950 miliardi di euro. Se utilizziamo il metodo della spesa, circa il 60% del PIL è costituito dai consumi delle famiglie e circa il 23% dagli investimenti delle imprese. Un indicatore particolarmente usato per confrontare la ricchezza di nazioni diverse è il PIL pro capite, cioè il PIL diviso per il numero di abitanti, che è di solito espresso in una valuta comune, come ad esempio il dollaro. Nel 2023 il PIL pro capite italiano è di circa 37 mila dollari, poco meno dei 41 mila dollari della media dell'Unione Europea. Per un confronto ancora più efficace si può poi utilizzare il PIL a parità di potere d'acquisto, che tiene conto del fatto che in paesi diversi vi siano prezzi diversi per beni e servizi. Ma un PIL più alto corrisponde un benessere maggiore? Cioè la crescita economica misurata come incremento del PIL è un qualcosa di desiderabile? Questa domanda ovviamente non può trovare risposta in questi pochi minuti che ci restano, quindi cercherò soltanto di darvi qualche spunto di approfondimento. Innanzitutto, come abbiamo già detto, il PIL è un indicatore dello stato di salute di un sistema economico e si limita quindi a misurare il benessere materiale, cioè tiene conto della quantità di beni e servizi prodotti e di risorse utilizzate o investite. Che a un PIL maggiore corrisponde a una qualità della vita migliore per i singoli individui è da dimostrare, ma questo è lo stesso tipo di domanda che c'eravamo posti fin dall'episodio zero, cioè se i soldi fanno la felicità. A livello individuale non è per niente scontato dare una risposta, ma se guardiamo a livello collettivo sicuramente possiamo osservare una correlazione tra la soddisfazione di vita, almeno quella autopercepita, e il valore del PIL nei diversi paesi. Come al solito vi lascio tutte le fonti nel sito in descrizione. Vi sono poi, come dicevo, altri indicatori che vengono utilizzati per misurare il benessere di un paese, come ad esempio l'indice di sviluppo umano che viene elaborato dalle Nazioni Unite e che tiene conto anche, ad esempio, dell'aspettativa di vita alla nascita o del numero medio di anni di scuola. Vi è anche poi il Better Life Index elaborato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Anche di questo vi lascio il link in descrizione e se volete sul sito potete specificare le varie dimensioni e quanto pesino per voi, se ad esempio pesi di più l'ambiente o l'educazione o il mercato del lavoro o la rete sociale, e vedere come i vari paesi si classificano a seconda del peso dato alle diverse dimensioni. Dall'altro lato possiamo poi osservare come la crescita economica sia intimamente legata al progresso tecnologico, che dalla rivoluzione industriale in poi ha radicalmente cambiato il mondo in cui viviamo. Il progresso tecnologico permette di aumentare la produttività, cioè la quantità di beni o servizi che vengono prodotti a parità di risorse investite, siano queste risorse umane, cioè il lavoro, che risorse economiche, cioè i capitali, come abbiamo visto fin dall'episodio 1. Grazie al progresso tecnologico il mondo di oggi è un posto molto migliore rispetto al mondo anche solo di un secolo fa, sotto indicatori su cui sicuramente possiamo essere d'accordo, come ad esempio la povertà assoluta o la speranza di vita alla nascita. Ma a livello individuale il progresso tecnologico impatta le persone in modo diverso. Ci sono persone che rimarranno disoccupate a causa del progresso tecnologico perché i loro impieghi diventeranno obsoleti e altre persone che invece al contrario potranno cogliere le opportunità offerte da nuove tecnologie e quindi mettere a frutto delle abilità differenti. La tecnologia causa cambiamenti strutturali nella società e armonizzare il progresso tecnologico con la crescita economica è uno dei compiti principali della politica. Così come la scienza in generale, l'economia offre gli strumenti per comprendere la realtà, ma poi la decisione di cosa fare con questi strumenti è una decisione squisitamente politica e allo stesso tempo siamo noi, come cittadini ed elettori, in una democrazia ad avere influenza sulle scelte politiche e quindi sul nostro futuro. Con questa consapevolezza possiamo quindi guardare al dato della crescita economica in Italia ed osservare come il nostro paese negli ultimi vent'anni non sia praticamente cresciuto per niente, al contrario ad esempio di Francia o Germania che sono paesi europei con economie molto simili alla nostra. La mancata crescita è ritenuta uno dei fattori di fragilità del nostro paese ed anche uno dei motivi che causa una scarsa fiducia nelle prospettive future, specie in quei giovani italiani che decidono di emigrare. Tra i motivi di questa mancata crescita possiamo citare, come abbiamo già detto nello scorso video, l'enorme debito pubblico italiano che si è andato ad accumulare fin dalla fine del secolo scorso e che oggi ammonta a circa il 135% del prodotto interno lordo. Ma la mancata crescita contribuisce anche la scarsa propensione all'innovazione tecnologica nel nostro paese che si vede dal fatto che investiamo pochissimo nella ricerca o ancora lo squilibrio tra le competenze offerte dai giovani laureati e quelle invece richieste dal mercato del lavoro. Inoltre la lentezza della giustizia civile e l'inefficienza della pubblica amministrazione italiana fanno sì che l'Italia non sia un paese particolarmente appetibile per chi decida di investire facendo nascere delle nuove attività economiche. Ripeto ancora che è compito della politica dare una soluzione a questi problemi. Ed è quindi con questa riflessione che si conclude questa serie dedicata all'educazione finanziaria. Spero di avervi dato gli strumenti, se non li avevate, per orientarvi un po' meglio nel mondo dell'economia e della finanza, dal capire cosa fare per le proprie scelte di investimento al capire perché il valore dei nostri soldi diminuisce a causa dell'inflazione. E spero anche di avervi un po' incuriositi sull'argomento per andare ad approfondire voi stessi. Ma spero soprattutto di avervi trasmesso quel senso di responsabilità di cittadini che prendono parte alle decisioni politiche del proprio paese. Perché se è vero che i soldi non fanno la felicità a livello individuale è anche vero che una società economicamente avanzata è una società in cui tutti hanno più possibilità di realizzarsi e di stare bene. Questo era tutto quanto volevo dirvi in questo decimo e ultimo video di questa serie dedicata all'educazione finanziaria. Grazie per avermi seguito, grazie per essere arrivati fino a qui, per aver tenuto duro, per ogni dubbio, domande, chiarimenti e critiche. Come al solito vi aspetto nei commenti e come al solito trovate tutte le fonti in descrizione. Condividete, se vi va, questa serie con i vostri conoscenti, con le vostre amiche, con i vostri amici e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie e noi ci vediamo al prossimo video.